Luca Barbareschi nella prossima stagione TV sbarca in prima serata su Rai 2 Nuovo programma per l'attore e regista? Parla Alberto Dandolo E' uscito come di consuetudine l'ultimo numero del periodico Oggi, al cui interno i numerosi lettori hanno trovato la rubrica curata dal giornalista Alberto Dandolo Che ovviamente ha dato le indiscrezioni in suo possesso su alcuni personaggi dello spettacolo, tra cui l'attore, regista e produttore cinematografico Luca Barbareschi Su quest'ultimo è venuto a conoscenza che nei prossimi mesi potrebbe presentare un programma tutto suo nella prima serata di Rai 2 Dovrebbe ottenere, dopo le esperienze su Rai 3, la conduzione di un programma in prima serata sul secondo canale Rai Luca Barbareschi potrebbe presto approdare pure sull'ammiraglia dell'azienda pubblica TV Alberto Dandolo sull'ultimo numero del magazine Oggi ha anche riportato che però il programma su Rai 2 non sarebbe l'unica cosa che bolle in pentola riguardante la prossima stagione televisiva Di fatti l'attore, regista e produttore cinematografico pare abbia chance molto più che concrete di approdare prossimamente sull'ammiraglia Rai con un altro progetto, di cui però al momento non è dato sapere niente In realtà nemmeno sulla trasmissione che dovrebbe condurre in prima serata su Rai 2 il giornalista ha dato molte informazioni Il programma sul secondo canale nazionale non sarebbe l'unico suo progetto futuro.C' è chi infatti accenna a uno sbarco anche sulla rete ammiraglia Insomma pare davvero che la prossima stagione TV potrebbe essere assati impegnativa per Luca Barbareschi, il quale è stato recentemente ospite da Caterina Balivo alla volta buona a parlare della sua vita a 360 gradi, come ha fatto presente lo stesso Dandolo Dovrebbe trovare tanto spazio in video sulle reti Rai nella prossima stagione televisiva Ascolti in barba a tutto, ecco com'è andato il suo ultimo show In attesa del presunto ritorno in TV in grande stile di Luca Barbareschi si ricorda che nella scorsa stagione televisiva ha condotto dal 14 gennaio la trasmissione in barba a tutto per sei puntate in seconda serata sul terzo canale Rai subito dopo Report Come sono andati gli ascolti? La prima puntata è stata seguita da 624.000 spettatori a casa con uno share pari al 5,4%, mentre la seconda è calata a 500.000 telespettatori con il 4,5% di share La terza puntata è andata incontro a un ulteriore calo a 422.000 telespettatori con il 3,75% di share Le altre tre puntate restanti si sono poi mantenute più o meno sugli stessi dati. Si ricorda che in questa occasione ha intervistato tanti personaggi famosi, tra cui Serena Rossi e Vera Gemma